Si chiama così. Davanti all'ascensore non la salutai con un bacio. Sa sentire Rita. Può darsi che non mi faccia vivo per qualche mese. Restò zitta per qualche secondo. Poi domandò perché? Può darsi anche che ti telefoni, magari appena arrivo in camera mia, ma non è sicuro. Mi voltai e feci qualche passo. Accidenti a te, laudii maledirmi. Rientrai a casa. Augusto, il mio ospite, stava giocando a poker con un amico. Salve gente! Mi risposero con grugniti appropriati. Come ti è andata stasera, Augusto? chiesi. Un bel passaggio e un punto. In più mi sono fatta finalmente Maria Rossi. Chi è? chiese il pietecantropo che giocava con Augusto. È una che non me la voleva dare. Alla fine l'ho fatta bere e me l'ha data. A quel punto della mia vita ho avuto come un'illuminazione, si chiama così. Era una necessità che accarezzavo da tanto tempo e che in quel giorno esplose come un sole dentro di me. Ma io, che ho a che fare con questa gente, mi dissi?